Ragazzi, io temo di dover chiamare i signori della Mojang per chiedere un piccolo aiuto qui, eh. Eh, buonasera, parlo con gli operatori di Minecraft. Sì, mi dico. Minecraft Java Edition che ci dice grafiche favolose. Per qualche strano motivo sanno che ho le shaders, perché le grafiche di Minecraft sono molto belle, però le mie sono più belle, quindi grazie. Single player, siamo pronti, finalmente. Non so da quanto tempo è che ci stiamo sbattendo la testa. Ufficialmente questa sera andremo a finire gli scavi. Gli scavi che sono già ad un punto super super avanzato. Questo grazie a tutti quei marchi ingegni di TNT che siamo riusciti a costruire. Vi dico che potremmo aver perso dei pezzi di vetro dall'acquario, ma non è importante. L'importante è che siamo riusciti a scavare tutto. E questa sera iniziamo a fare l'effetto nebbia sul fondo, che verrà veramente, veramente bene. Spero che l'altezza sia corretta, perché ci ho sbattuto la testa come un matto. Se l'altezza non è corretta, troviamo un escamotage, abbassiamo ancora un po' di più. Tanto scavare adesso è facile, basta mettere un po' di TNT e siamo pronti. Vi faccio anche poi vedere in creativa come si fa l'effetto con la nebbia, perché sono sicuro che non lo finiremo stasera. È altamente impossibile. Entriamo! Survival Ita stagione 2. Andiamo sull'oceano. Siete pronti? Al grande reveal. Vi voglio vedere caldi. Mi raccomando, ragazzi di Twitch, salutate i ragazzi di YouTube. E ragazzi di YouTube, se volete venire, sono in live ogni giorno alle 2 un quarto e alle 9 un quarto sulla piattaforma viola. Mi raccomando. Eccoli qui, come sono belli i caldi, come sono belli i gasati. Let's go. Ci piace, ci piace, ci piace. Oh! Ok, non serve fare tutto questo hype. Ragazzi, finalmente abbiamo quasi finito. Finalmente. Ho scoperto comunque che ci sono 4 slime chunk. Ce l'eravamo chiesti, siamo arrivati a 4 slime chunk. È bellissimo da vedere, molto bello. Prendilo e cancellalo perché dobbiamo costruire un sacco di cose. Bene, 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 bene. E ovviamente quasi tutti i diamanti che c'erano in questa zona qui purtroppo li abbiamo persi, vi dirò la verità. Ma tutti quelli che sono rimasti sul fondo, che ho ovviamente livellato a mano nel migliore dei modi, sono ancora qui. Quindi quelli possiamo prendere noi assieme man mano che mettiamo le cose. Allora, adesso vi spiego come funziona l'effetto nebbia. E come facciamo l'effetto nebbia questa sera. Allora, Minecraft è molto particolare, soprattutto se si utilizzano le shaders e soprattutto se si utilizza la Optifine. Allora, l'effetto nebbia si fa così, ragazzi. Abbiamo bisogno di una fonte di luce che nel mio caso saranno le Sea Lantern perché è l'unica luce che posso farmare, avendo soltanto a disposizione giustamente i guardiani. E oltre alle Sea Lantern abbiamo bisogno di vetro. Il vetro deve avere un colore particolare, nel nostro caso avrà il colore ciano e light blue perché aveva vinto nel sondaggio l'azzurro. Per fare questo effetto nebbia noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scavare tot blocchi sotto terra o comunque mettere una fonte di luce. Dobbiamo prendere dei tappeti che nel nostro caso ovviamente dovranno essere di colore light blue, azzurro. Andiamo a mettere i tappeti così e sopra iniziamo a mettere il vetro. Quindi mettiamo vetro, vetro lasciando uno di spazio così e così via fino ad arrivare a minimo sette strati. Quando noi arriviamo al settimo strato si vede l'effetto nebbia che già in realtà possiamo iniziare a vedere così. Vedete? Ha una sorta di effetto nebbia. Più si va in alto, più migliora questo effetto qui. È molto semplice da fare in realtà, non è così complicato. Semplicemente che lo dobbiamo fare su una superficie che è spessa 300x300. Vedete? Adesso ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Addirittura ho fatto 8 strati e l'effetto che si vede da sopra è questo qui. Vedete? È bellissimo. E lo faremo per tutta la dimensione di quel posto. Andiamo! Allora ragazzi, dovremo iniziare veramente a valutare poi, oltretutto, di fare una farm di sabbia. L'ho già detto in tanti video, l'ho già detto in tante occasioni, ma a questo giro non so se riuscirò a scamparmela. Non so se riuscirò a scamparmela perché ragazzuoli, qui, sul bordo, come potete vedere, voglio fare le mura fatte con la concrete, ovviamente simile al colore del vetro. Quindi magari concrete azzurra, concrete ciana e così via. Sono tanti, 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 tanti blocchi e non ho a disposizione né la sabbia, soprattutto, che abbiamo usato per scavare tutto questo con la TNT, né la gravel, a maggior ragione, perché non ho avuto mai modo di prendere così tanta gravel. Quindi non riuscirò a fare così tanta concrete se non utilizzando effettivamente un duplicatore. Detto questo, prendiamo già sti diamanti che sono molto carucci. E ancora prima di iniziare, però, bisogna rimuovere le ultime cosettine che erano rimaste da rimuovere, ovviamente, che sono importanti. Ma guarda, della gravel, com'è conveniente. E a tal proposito, visto che adesso stiamo facendo questa cosa qui con la nebbia che ha a che fare con i colori, ragazzi, qual è il vostro colore preferito? Una domanda importante, anche perché si collegano molte cose al colore preferito. Allora ragazzi, per quelli che mi stanno chiedendo in chat, e probabilmente c'è anche qualcun altro con dei dubbi, perché qui sotto non c'è il vetro dell'acquario e il vetro dell'acquario si ferma lì? Tutta questa zona qui non sarà accessibile. Tutta questa zona qui mi serve semplicemente per fare l'effetto del vetro. L'effetto del vetro poi si fermerà qua, preciso con la linea dell'acquario. E io potrò camminare su qui. Tra l'altro, essendo fatto di vetro, questa è una giocata da 2000Q, non lo dobbiamo neanche illuminare, perché sul vetro i mob non spawnano, e l'illuminazione arriva da sotto, perché appunto abbiamo una fonte di luce che spara verso l'alto e passa attraverso i vetri. Quindi è comodissimo, proprio, perfetto. E ringrazio il ragazzo che mi aveva dato il consiglio di, appunto, illuminare tutto utilizzando questa cosa qua. Ehi, ti ho visto che non hai lasciato like al video, e mi raccomando, ricordati di bere due litri d'acqua al giorno, io ho appena finito i miei. È importante per la tua salute. Ho scavato tutta questa roba solo per fare la nebbia? Non solo per fare la nebbia, ho scavato tutto questo anche perché la piramide poi, vedete che questa terra è rimasta? Prima noi avevamo la terra che era a questa altezza qui. Abbiamo scavato tutto, così qua possiamo far partire la piramide dal basso, e avere più spazio a disposizione. Perché sennò ovviamente rimaneva tutta la terra, era brutto, era davvero brutto. Poi è discutibile il modo in cui ho rimosso le cose, potevo fare molto, molto, molto più velocemente, ma ci va bene lo stesso. Tra l'altro per la farm di sabbia siamo anche avvantaggiati, tra virgolette, perché come dicevo anche al pomeriggio, che abbiamo continuato gli scavi, qui ci sono un sacco di slime chunk. E avendo un sacco di slime chunk a disposizione, è comodo per farmi gli slime che mi servono per fare i blocchi. E sono andato anche a cercare nelle casse, ho trovato questi qui, e questo è il colore di cui vorrei fare il bordo. Adesso vi farei un esempio a caso, iniziando a salire, lo vorrei fare di questo colore qua. Che appunto ha senso con le seal lantern, eccetera eccetera. Ditemi voi, però non ne ho molto a disposizione, per questo motivo vorrei fare la farm di sabbia. Ok, allora questi blocchi qui, tanto poi li scaviamo veramente ad una velocità folle, perché manca pochissimo. Iniziavo ad andare a prendere le seal lantern, e anche ad organizzare un minimo il nostro inventario. Avevamo craftato delle seal lantern per quale progetto? Ancora non mi è venuto in mente in tutto ciò. Forse le avevamo fatte per il progetto della statua della libertà? Ah no, aspetta! Le avevamo utilizzate per il progetto del villaggio natalizio. Il villaggio natalizio, e poi le avevamo utilizzate per la pagoda, all'inizio, che è il motivo per cui le avevamo costruite inizialmente. Le seal lantern non si trovano soltanto con i dungeon acquatici, le spugne sì. Infatti ho finito tutte le mie spugne, ragazzi. Completamente. Forse me ne sono avanzate una ventina, ma molte le ho fatte esplodere, molte le ho perse, se comunque ho perso gran parte delle spugne. Però le seal lantern si possono farmare. Esiste proprio una farm di seal lantern. E se vi interessa, ovviamente potete trovare il video sempre sul mio canale YouTube. Prendiamo uno spot, tipo questo, e iniziamo a mettere le nostre seal lantern. Anzi, fatemi un attimo contare l'altezza che mi serve per fare bene l'effetto della nebbia, perché non vorrei esagerare e partire da troppo in basso. D'ora in poi, ragazzi, ve lo dico finalmente con il cuore in mano, a parte rimuovere qualcosa che è rimasto, dobbiamo soltanto costruire. Non dobbiamo più distruggere niente. Solo costruire. L'unica cosa che distruggeremo sarà un paio di ecosistemi per i blocchi a disposizione, per le cose che ci servono, ma è regolare. Abbiamo il primo strato di vetro, il secondo strato di vetro, e l'ottavo. Sì, ci sta, dai. Ne facciamo otto. Ne facciamo otto, mi piace. Qui poi dovrò sostituire la terra, perché si può vedere, se no non mi fa impazzire. Magari ci metto altra seal lantern. E questo qua lo faremo con il colore appunto che va su. Perché come dicevo, c'è un colore che va su, lo facciamo andare su abbastanza bene. Quindi il punto base che abbiamo scelto ha senso. Ottimo. Sotto le lanterne potresti provare a fare una piccola città sotterranea e lasciare l'entrata della caverna aperta, bellendosi l'entrata che... Ha senso. Il problema è far comunicare questa parte sopra qua con quella sotto, bro. Quello lo trovo, diciamo, il problema principale. Una cosa tra l'altro che ho notato, ragazzi, purtroppo, mi sono perso il centro di questa costruzione. Ho provato anche a ricalcolarlo, ma ho perso il conto. Ci avevo messo un sacco di tempo a farlo, ma l'ho perso. Quando ho fatto esplodere tutto. Non ci avevo minimamente pensato mi sarebbe stato utile per alcune cose. Tipo, io sono abbastanza sicuro che sia qui. Fatemi volare. Bello snipero preciso. Sarà qua dove c'è la lava. Tipo quest'ultimo blocco qui sarà quello centrale. Per farvi capire quanto è mastodontico questo progetto, soltanto per fare una minima decorazione, che quasi non si vedrà, perché sopra ci sarà la piramide, che è la decorazione della nebbia, abbiamo bisogno di 495.000 blocchi, ovvero 7.227 stack circa, dove 6 settimi di questi stack sono dati da vetro colorato. Vetro colorato che ovviamente otterremo con la farm di sabbia. Il problema è che per colorarlo non possiamo usare la sabbia, quindi dovremo utilizzare una farm di colori. Che follia. Ah, che bello ragazzi. Iniziare con il sorriso. Un qualcosa che mi prenderà un tempo senza senso, che mi prenderà a 77.000 blocchi. Ma nel chilling, perché noi queste cose ce le mangiamo a colazione. Ragazzi, io temo di dover chiamare i signori della Mojang per chiedere un piccolo aiuto qui, eh. Temo di dover chiamare i signori della Mojang. Proviamo a fare uno squillo, magari un po' tardino. Buonasera, parlo con gli operatori di Minecraft. Sì, mi dica. Allora, scusate l'orario innanzitutto. Non volevo disturbare minimamente, so che sto chiamando alle 10.18, forse è un po' tardino. Spero di non disturbare. Dicendomi questa cosa mi sta facendo perdere ulteriore tempo. mi dica. No, niente. Allora, le volevo chiedere un consiglio. Ho, diciamo, iniziato un progetto un po' folle, perché soltanto la decorazione mi richiederà 77.000 blocchi. Lei ha qualche consiglio per velocizzare un po' questo processo? Comunque, dovrebbe saperlo in quanto operatore di Minecraft. Cosa ne pensa? Allora, lei mi faccia un attimo capire una cosa. In questo momento c'è qualcuno che ci sta ascoltando. No. Ok, allora, invia di tutto confidenziale. Francesca, lasciami in sala. Sto parlando con... Scusi, come si chiama lei? Lorenzo. Sto parlando con Marco. Ha detto praticamente che... Praticamente se assume una decina di bambini... Cosa? No. No, eh... No, eh... No, stavo parlando con Francesca. Ah, ok, ok. No, no, io... Ah, lavorano anche i bambini alla Mojang? Mi ha messo giù, ragazzi! Mi ha messo giù! Vabbè, ragazzi, c'è qualche volontario che vuole darmi una mano a continuare il mio bellissimo progetto? Io sono sempre disponibile, eh? Siamo sempre disponibili, ragazzi! Finalmente andiamo anche a chiudere un capitolo che abbiamo iniziato tanto tempo fa, non so quanti di voi se lo ricordano o quanti di voi c'erano, ma dentro la piramide voglio fare il portale. Quando dico il portale faccio riferimento al mio vecchio mondo. Io nel mio vecchio mondo ho fatto un bellissimo portale che era il portale che ci portava poi nella nuova stagione, che vi avrei promesso sarebbe stata altrettanto bella, ovviamente stiamo ancora cucinando, però questo sarà il collegamento ufficiale. Qui c'è il nostro portale della vecchia season, lo facciamo dentro la piramide. Così colleghiamo la stagione 1 della mia survival, stata stupenda, bellissima, con la stagione 2. Tra l'altro quella costruzione lì mi ricorda molto questa qua. Ovviamente questa non è niente a livello di dimensioni, però carina. Buongiorno, sono qui per ricordarvi di bere 57 litri di acqua al giorno e ogni tanto respirate che fa bene Lollo Frog. Nel senso respirate che fa bene? Penso che sia giusto un minimo essenziale alla vita a respirare. Mi sembrava impossibile che... Porca vacca! Andiamo subito a dormire ragazzi. O per dire, mi sembrava impossibile che fossero 72 mila blocchi, invece mi sa che sono effettivamente 72 mila blocchi di Sea Lantern, mamma mia. Devo fare un'altra farm, per forza. Oh, cos'è sta roba che sono andato a dormire ho preso 8 danni per andare a essere andato a letto? Cos'è, mi ha preso un fulmine? Ragazzi, ho finito le Sea Lantern ufficialmente. Ci sono anche altre cosine da fare. Partiamo con ordine, andiamo con canno. Ci potrebbe stare e iniziare a mettere il vetro ma non ho i colori per farlo, quindi andiamo un attimo esponenzialmente. Se noi abbiamo bisogno di colori per fare un vetro di un certo tipo, quindi il vetro ciano, il vetro blu, bla bla bla, che cosa possiamo fare? Il blu lo possiamo prendere o dalla lapislazzuli oppure lo possiamo prendere da una farm di fiori. Quindi potremmo valutare l'idea di una farm slazzuli, però non so quanto sia la cosa migliore. Possiamo continuare a lavorare l'acquario perché alla fine abbiamo da finire anche l'acquario oppure possiamo anche spostarci sull'isola di Mario Bros. Per il momento mentre ci penso e mentre ci pensiamo mentre vediamo cosa fare mi sa che vado a prendermi due diamantini sotto. Fatemi giusto. Fa niente, non ho voglia di piazzare Sea Lantern sto diventando cieco guardarle, ve lo giuro. Tutta sta luce, poi la luce è sparafresciata in faccia. Allora adesso dobbiamo andare ad Hogwarts e voi direte perché? Fidatevi di me. Vorrei farvi vedere la visuale perché c'è il tramonto Hogwarts col tramonto è proprio devo farvi vedere quello che facciamo anche nell'altro mondo. Mamma mia, guardate che bello ragazzi. Devo alzarla a render distance qui perché bisogna goderselo al massimo. Poi mi manca questo mondo survival a volte, soprattutto adesso che sto giocando tanto sono abituato a muovermi nell'altro. Guardate quella luna! Nell'altro inteso questo, cioè ho ancora l'abitudine di andare mamma mia. Vabbè, ma non siamo qui per questo, non siamo venuti qui per chillare e vedere quanto è bello Hogwarts. Siamo venuti qui per vedere com'è fatta questa qui. Allora, adesso io non mi ricordo precisamente come funziona. Mettiamo un blocco con un pistone sopra, una leva e un observer che guarda... Ok, devo rifarlo perché mi ricordo vagamente di questo sistema ma non me lo ricordo del tutto, ecco. Carpet, proviamo a farlo con questo qui, azzurro. In teoria forse questo l'attiva però mi sa. Funziona ancora? Funziona ancora. Allora, devo fare una cosa di questo tipo, poi devo mettere in teoria l'observer da questo lato con attaccato uno slime block e poi devo mettere questo qui sotto e ho fatto. Blocco solido, observer con uno slime block. Sto iniziando ad arrivare da qualche parte. Così difficile fare sta cacchio di marchi in genio. Ok, how convenient. Bene, abbiamo fatto la farm di tappeti. perfetto. Ok, allora facciamo qui di fianco vicino alla bellissima farm di Naintag, se così la vogliamo chiamare perché effettivamente è una farm di Naintag. Facciamo una bellissima farm di tappeti. Di tappeti azzurri però. Ho un colorante azzurro in giro. Sarà divertente cercare del colorante azzurro. Mettiamo via questi, prendiamo dei blocchi che ci possono servire temporanei, prendiamo lo slime che mi servirà, ho bisogno del ferro con cui poter fare dei pistoni, questi sono razzi quindi tutto riguadagnato e poi abbiamo bisogno di prendere un tappeto a caso e colorarlo. E anche magari un hopper e una chest. Oh, guarda, ho già anche un pistone. Super, super, super. Una chest la facciamo con questi e la leva. Un hopper. Un hopper ce l'ho da qualche parte. È perfetto. Abbiamo il light blue. Poi con questo facciamo questo e con questo facciamo i tappeti azzurri. Ottimo. Ora ci manca soltanto un observer. Dove lo trovo un bello observerino? L'observer sta in uno delle chest vicino al progetto enorme. Perfetto. Grazie. Observer. Voglio davvero farle in andesite? No, facciamola con la grey concrete che è più carina. Perfetto. Andiamo a craftare una semplicissima farm di tappeti. Ok, se ricordo bene era così, così. Qua di fianco mettiamo un blocco, un altro blocco, un altro blocco. Qui lo spacchiamo. Andiamo a mettere un bellissimo observer che dà in questo lato. Qua lo rompiamo ancora. Qui mettiamo doppio blocco. Tecnicamente quello che io sto facendo è corretto. Farm ora, appena ho messo il tappeto con la leva qua di fianco, dovrebbe funzionare. 3, 2, 1. Ok. Sembra che ci sia un drop che cade qui, ma no. Me li sta prendendo? Yes. Ok, ottimo. Abbiamo un marking genio che ci farma in passivo i tappeti. Quindi un problema lo abbiamo risolto. Adesso dobbiamo pensare un attimo al problema della sabbia, ragazzi. Che poi sabbia, della concrete. Perché la farm di sabbia è complicatissima. Ma c'è una cosa al di là di tutto il complicato che dobbiamo ancora fare. Dobbiamo trovare un portale dell'end. Io ho già un portale dell'end ma non voglio utilizzarlo o utilizziamo il portale dell'end principale con tutti i rischi del caso oppure ne troviamo uno nuovo. Secondo voi andiamo nel portale dell'end principale o ne utilizziamo uno nuovo? Si può comunque entrare nel land con i suoi rischi che ne conseguono. L'altro ovviamente sarebbe nuovo. Dite nuovo mi fa spaccare come su Twitch dite nuovo e su TikTok stanno dicendo sul principale. A questo punto chiederei ai moderatori di fare un sondaggio ed è anche il motivo per cui faccio il live ragazzi almeno mi potete aiutare da questo punto di vista. Voro a dormire e poi andiamo a cercare un nuovo portale dell'end allora vuole davvero poco. Andiamo nel land prendiamo qualche ender pearl facciamo fuori un paio di blades così abbiamo la blades powder e si vola. Allora andiamo a prendere un po' di ender pearl per la prima volta mi serviranno tutte ste ender pearl che mi danno arriverò lì ce ne saranno già mille per terra eccolo infatti neanche arrivare lì ne ho già due no raga non è possibile ho già l'inventario pieno ma dai vi voglio far vedere una cosa molto carina ragazzi siete pronti a vedere i maranza siete pronti allo spam di maranza questa è una cosa interessante e molto rischiosa da fare e adesso volerò via tranquillamente e vi voglio far vedere quanti enderman mi stanno inseguendo porca vacca non sono salvato i maranza raga sono ancora qua no 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 vola via 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 no 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 ok 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 meno male che non mi seguono damn stavo sudando ve lo giuro niente non ho nessun tipo di blades powder ragazzi ottimo perfetto tocca andare a farsi un giro nel nether sempre bello tornare nel nether a picchiare il cacchio di blades con un'armatura dove loro non ti fanno praticamente danno e sempre rischiato di morire questi maledetti ah guarda qua 5 blades powder con 2 spadate ragazzi in quale bell'universo succedono ste cose tanto iniziamo a craftare un po' di o grazie 3 no 3 blades road sono insane siamo già a 16 occhi ok direi che 24 occhi possono bastare e anche avanzare uno stack di ender però non lo porto volentieri adesso si torna le coordinate che sono meno 28 40 e andiamo a cercare un nuovo portale per fare la farm di sabbia tutto ciò tutto ciò stiamo sempre più vicini al giorno 1500 siamo veramente nel grind ultimamente stanno salendo tanto 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 ok ragazzi vedo questa bellissima grotta che mi dà il segnale di scendere e lanciamo il primo occhio ok potevo fermarmi molto prima no volevo prenderlo al volo secondo me sarei in un posto completamente a caso ok vediamo se riesco a prenderlo al volo fortissimo no ti prego non dirmi che è in mezzo all'oceano te ne prego non sapevo nemmeno di avere una giungla vicino infatti si sta ancora renderizzando è ancora tanto lontana però mamma mia per ora nessun occhio rotto oh ma che cacchio è sta cosa quante tartarughe che carine che fanno che fate si infilano in un buco ragazzi cosa sta succedendo ho paura che mi stia genuinamente portando all'altro portale ragazzi oh invece no invece no siamo vicini siamo molto vicini siamo super vicini ok lo rilanciamo è un villaggio ok se è sotto il villaggio è godurissimo mi porta al villaggio niente ovviamente dovevano rompersi ok è qua sotto allora torniamo indietro giusto un pelo dovrebbe essere qua mi è anche già andata bene perché è molto vicino al mio villaggio principale no scusa perché ora mi rimanda indietro ok qua mi manda indietro è qua sotto terra ragazzi siamo arrivati allo spot cavolo non ho preso qualcosa per fare luce beccatevi la ragionata era 200Q torno indietro al villaggio mi prendo un paio di torce da mettermi nella seconda mano così anche se ne uso qualcuna non succede niente non dormo al villaggio dei villager perché sennò poi non mi torno a casa e poi torno alla mia shulker box rossa non vedrei nessun tipo di stronghold per il momento sarà ancora più sotto visto che non siamo neanche a livello 0 ok entriamo direttamente nella libreria ci piace non penso di aver bisogno niente delle cose che ci sono qua non ne ho comunque bisogno tutti quei cosini eh va qua che fortuna ehi 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 blocchiamolo eeeh mettiamoci gli occhi così lo possiamo anche si perché lo devo attivare prima mettiamo gli occhi nel chill allora togliamo già queste scale qua perché so che queste scale non mi servono perché dobbiamo fare appunto la farm e avremo bisogno dei funghi perché non so se lo sapete ma con i funghi ragazzi si può spaccare il portale del land è una cosa assurda questa lava va asciugata in qualche modo si può asciugare con le scale si ecco noi in questo portale per entrare effettivamente dentro al land entriamo da sotto e non potevo trovare coordinate migliori perché è a meno 1500 meno 1100 comodo veloce vicino poi faremo anche qua il collegamento ovviamente sopra spegniamo la lava qui vabbè fa comunque luce quello meno male queste ce li prendiamo cosa sarebbe da illuminare un po' pipistrello bagnato l'altro mi dà fastidio il rumore dei mob ma vabbè per il momento facciamo così qui lo lasciamo in questo modo qua vabbè potrei iniziare a scavare il pavimento perché devo abbassarlo di uno se non addirittura di due perché entro da sotto perché questa parte sopra verrà completamente distrutta e qui sopra non posso entrare perché quando costruirò la farm sopra ci saranno i blocchi di sabbia che fanno così fanno un movimento circolare proprio devi glitchare la sabbia in modo da farla entrare e uscire dal land così nel land te la spara perché viene duplicata e invece nel mondo qui ti rimane lo stesso è una farna di sabbia concrete tutti gli oggetti gravitazionali anche le incudini anche le incudini ora che ci penso le incudini si danno il ferro non sta bene che bello però ma se io salto non so se lo vedete anche voi per mezzo millisecondo no ma quanto è bella questa cosa sognerei di avere una stanza con solo questo sopra sarebbe bellissimo ok ci siamo presi le coordinate ci siamo monopolizzati la stanza abbiamo le idee ben chiare su quello che dobbiamo fare andiamo nel land che bello mamma mia sono incantato non che sia da meno land guardate che stupendo porco ma che cacchio dai maranza del cacchio maledetti ora abbiamo due portali del land sbloccati a disposizione l'acustri io vi ringrazio tantissimo della visione come al solito se volete vedere altri miei due video io ve li lascio qui e noi ci vediamo al prossimo let's go